Musica Musica Che dici Il pacchianese Altre sono più scopate Per andare a scopare Secondo me noi oggi Visto che abbiamo stato scopato Ci facciamo un attimo La scorsa dei brani Sentite così come avevo fatto con questo Magari a me più che a te Ti vengono in mezzo Secondo questa linea qua Ti vuol venire in mezzo Già ce l'ho in un paio di pezzi Per cui è fondamentale Le panzolette dell'inferno Ce ne sono varie sull'inferno L'inferno dei musicisti Questo salsofonista Che muore Ovviamente L'inferno è fatto per caso E dici guarda noi abbiamo tre poste qua Scitano posto e due posto Una parte sei tutto merda Alla parte tutto fuoco Poi senti una musichetta Ma la che c'è sta Ma che era la stanza di qui Ah però c'è Charlie Parker Che dici tutta l'orchestra Ma voglio staccare Ma voglio staccare va bene Allora Allora Pietro mi dice Charlie c'è stato nuovo arrivato Ok vedi là Allora batto quattro Come siamo? Ragazzi batto quattro Un, due, due, tre No, no, non filma No, non va bene No, non va bene Non ci siamo qui Non sto conissimo No, non ci siamo le pare 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no, no ragazzi Non ci siamo Non ci siamo le pare 3, 4 Grazie.